Oggi ci va ai bel laghetti, è il lago di Profa. E' un po' di freddo, è un po' di freddo. Grazie a tutti 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 Ciao Siamo rientrando verso poco di via Sarà un lungo percorso Sono circa tre ore e mezza dal lago sulle tre morte Grazie a tutti Grazie a tutti